Pagina delle segnalazioni dedicata oggi interamente a via Brigadiere Anastasi, strada che la nostra redazione e residenti definiscono un campo di battaglia e le immagini non fanno altro che acclarare questa definizione. Del resto nel tempo la rubrica delle vostre segnalazioni ha avuto al centro proprio i problemi di via Anastasi, disagi legati alle perdite idriche, spesso anche più di una contestualmente. E l'intervento del gestore idrico più volte sollecitato da queste parti finalmente c'è stato una decina di giorni fa. Realizzati gli scavi, fatto un primo sopralluogo, transennato opportunamente l'aria, poi da via Anastasi non si è visto più operaio di girgenti acque. Risultato? Una strada in ben due punti scavata, transennata, divieti di sosta e problemi al passaggio degli automobilisti, reso quasi impossibile tra divieti, transenne e perdite idriche. Già, perché continuano ad esserci guasti alla condotta, mentre addirittura per alcuni giorni i residenti sono rimasti a secco. Probabilmente, affermano quanti segnalano il problema alla nostra relazione, il primo intervento del gestore idrico sarà servito per individuare il punto in cui la condotta idrica è guasta. Non è chiaro se questo punto è stato individuato, continuano i residenti e quando dai girgenti acque continuano di completare i lavori, dal momento che proprio nel punto in cui vi sono stati gli scavi e anche più avanti continuano a fuoriuscire acqua. Non solo perdite idriche. Negli anni, probabilmente sempre a causa di guasti alla condotta idrica, non si contano più le buche, i cedimenti e gli avvallamenti dell'asfalto che hanno lasciato una strada degna della definizione campo di battaglia che i residenti le hanno assegnato. È meritevole di un urgente intervento di sistemazione dell'intera condotta idrica prima e del rifacimento del manto stradale poi.